Amici di Trading Turbo 24, buongiorno e ben ritrovati dopo la pausa pasquale. Riprendono quest'oggi in Europa le contrattazioni martedì 11 di aprile 2023 e andiamo a parlare di euro-dollaro. Infatti abbiamo avuto sulla finire la scorsa settimana i dati del lavoro americani, andiamo a vedere come sta reagendo il cambio, lo strumento più liquido al mondo, quello che mette in contrapeso la divisa unica europea e quella americana. Iniziamo con l'analisi del grafico su base settimanale, vediamo come i top, anche quelli recenti di fatto, abbiano trovato una resistenza dinamica in quella trendline ascendente tracciata con i minimi del gennaio 2017 e del marzo del 2020, insomma a un livello davvero strategico importante che si associa a una soglia psicologica, quella dell'1,10 che abbiamo avuto e visto anche nel recente passato, sto parlando del mese di febbraio di questo 2023, segnare un livello importante per quella che è stata una corsa e un recupero davvero notevole per l'euro nei confronti del dollaro. Andiamo a vedere come si può andare a tradurre da un punto di vista operativo questa presenza di una resistenza dinamica andando ad analizzare il grafico su base giornaliera quindi daily ogni candela un giorno e in quest'ottica vediamo proprio come le quotazioni stiano lavorando in prossimità di area 1,09 e quindi in termini di rischio rendimento si può pensare di posizionarsi in prossimità di questi livelli. Li vediamo qui questa serie di toppettini che anche nel recente passato si sono fatti sentire con delle strategie in vendita che possono essere aperti nell'intorno di 1,09 e 10, 1,09 e 30, uno stop relativamente detto sia sopra questi massimi di periodo messi a 1,09 e 80, lo stop. Per quanto riguarda il target, beh, un target che in termini di rischio rendimento assolutamente può essere ambizioso, infatti una prima parte dell'operazione può essere chiusa in prossimità di area 1,07 e 40, mentre per chi vuole ambire degli obiettivi più ambiziosi ecco che la soglia di 1,06 volendo anche 1,05 e 50 può rappresentare un livello di approdo interessante. Per quanto riguarda la possibilità di operare con gli strumenti IG, vi ricordo che con i Turbo 24 avete a disposizione diverse soluzioni long e short in un modo analogo a quella che la strategia proposta, vedete, trovate diverse soluzioni con diversi livelli di leva, man mano che passate sopra vedete anche dove è posizionato il livello di knockout, quel livello che porta a zero il valore del certificato, se è toccato anche una sola volta, per chi volesse posizionarsi anche sopra ai massimi di inizio di febbraio, ecco che si può andare a selezionare anche uno strumento come questo livello knockout a 1,11 17 e 14 e una leva davvero significativa 51 che quindi va usata con Granu Salis, comunque per vedere tutte le diverse soluzioni sulla fronte del trading firmate IG, semplicemente andate su IG.com o potete aprire un conto demo utilizzando proprio i Turbo 24 Certificate. Grazie ancora per averci seguito, ci ritroviamo lunedì per una nuova analisi da portare e da mettere in campo con i certificati Turbo DG.